Ti prego, ha ricominciato da capo Oddio, non so come far a montare Adesso Vabbè Se non riesco a montarlo Sarà un secondo video Vi prego Qualcuna di voi, Anima Pia Faccia un tutorial Su come usare un buon programma Semplice per montare i video Vabbè, comunque, ringrazio Non mi sento male Non lo rifaccio da capo però Le ringrazio ancora A Mirella per avermi nominato Ciao tesoro E Giulia Del Prete per questa idea bellissima E faccio le mie nomination Che sono Claudia Angelini Nemirel E Madame Art Nomino loro tre Che di sicuro sapranno fare meglio di me In fatto di video Perché io veramente sono un disastro Comunque grazie a tutte Seguitemi ancora Se vi va malgrado tutto A dare quello che io ho fatto In questo video Rotto in due Chissà Forse riesco a unirlo Ciao 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 Ciao